Incompetente. Come sempre. Come una filastrocca. Ci pensi? Fai un tour. Per esempio la corte di Napoli e troverai una sezione interamente coperta da bandiere e sciarpe blu. Normali? No. Tuttavia. È consentita e trasmessa come un folklore locale. E stiamo parlando un potere procura tribunale. Straind. Che il consiglio stato ha anche deciso non accettare l'appello presentato dalla Juventus non sorprende affatto perché è in linea con le decisioni piliteche prese finora da tutti gli altri tribunali. Se qualcosa avrebbe sorpreso il contrario. Anche considerando se stesso incompetente a decidere la revoca dell'interne quella discussa scudetto. Sembra uno scherzo. Ma non lo è. Più prosaico. Questa è una presa per il fondo. a cui tutti gli organismi legali hanno contribuito negli ultimi 17 anni in cui la Juventus ha cercato di ottenere giustizia.